Buongiorno, oggi è il 18 giugno 2020 e sono le ore 9. È la prima convocazione della prima commissione consigliare. Adesso presentiamo le presenze dei consiglieri. Presidente Eola, vicepresidente Mineo, consigliere Forello, consigliere Chinnici, consigliere Rini, consigliere Sala, consigliere Ferrandelli. Considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione, si rinvita la seconda convocazione alle ore 10. Interrompiamo la registrazione.